Questo programma è realizzato in collaborazione con Grazie a tutti Buonasera ben ritrovati Siamo nella sede di Cavit E nella suggestiva cornice di questo luogo Dove sono di casa le bollicine di Altemasi Trento Doc E da qui, questa sera con la nostra trasmissione Come è diventata una consuetudine in questi ultimi due anni Rinnoviamo l'appuntamento augurale in occasione delle festività E lo facciamo con tre graditi ospiti Che vado subito a presentarvi Partirei dai padroni di casa Ovvero dal presidente, neo presidente di Cavit Bruno Lutterotti Ben trovato, buon lavoro e complimenti E accanto a lui il direttore generale di Cavit Nonché presidente anche dell'istituto Trento Doc Enrico Zazzoni Grazie anche a te E ovviamente il vertice della politica agricola e del turismo della nostra provincia Ovvero l'assessore Michele Dallapiccola Grazie assessore Buonasera Allora, con le festività dobbiamo dire in particolare Che si celebra una alleanza Fra turismo, vacanza e territorio Con una delle sue tipicità Che sono allo stesso tempo identità, cultura, storia Mi riferisco alla produzione vitivinicola E da questo proposito abbiamo ben presente Lo dirà e lo chiamerò in causa poi l'assessore Dallapiccola Cosa vuol dire oggi turisticamente Raccontare accanto ai nostri brand Dolomiti o Largo o Di Garda che sia Raccontare, dicevo Il valore aggiunto delle peculiarità della nostra terra Che descriviamo in una parola Che è diventata un po' adesso consuetudine La filiera dell'enogastronomia E fra l'altro molto apprezzata dai nostri ospiti Ma veniamo intanto in casa Cavit E partiamo da qui Pregherei la regia di mettermi in onda Fra l'altro subito le prime due schede Perché nel commentare Insomma la realtà di Cavit Cerchiamo anche di riassumerle In questi quattro spunti e quattro dati Anno di nascita 1950 Il gruppo Cavit Conta 196 dipendenti Realizza il 79% Del proprio fatturato all'estero Esporta la propria produzione Soprattutto negli Stati Uniti d'America Dove è il primo marchio italiano In Canada, Gran Bretagna Germania, Europa del Nord Svizzera, Belgio, Austria In Oriente Dove Cina e Giappone Stanno diventando sempre di più rilevanti L'Italia rimane il secondo mercato per importanza Gli ettari evitati sono 5.500 Il 60% della produzione vitivinicola Nella nostra provincia 11 sono le cantine associate 4.500 i viticoltori E a seguire Prossima scheda Prossima Prossima scheda Cortesemente la regia Si richiamava quello che è Eccolo qua Il fatturato dell'ultimo bilancio di esercizio Che è giugno 2014 Maggio 2015 E' pari a 166,8 milioni di euro Con una crescita del 5,2% Rispetto all'esercizio precedente La posizione finanziaria E' un dato in più La remunerazione euro e tolitro E' di circa più il 10% Rispetto all'esercizio passato Allora Direi I numeri già dicono molto Però partirei proprio da questo Per dire Che l'assemblea che c'è stata Presidente Luterotti Qualche mese fa Come vostra consuetudine Ha potuto mettere in risalto Un bilancio che assolutamente Dimostra un buon stato di salute E rappresenta anche Un elemento di valorizzazione E in termini di impresa Come è Cavite Di alleanza anche Con il nostro Trentino E direi anche Dimostrando questo Squadra insomma Soci Management E lavoratori Che abbiamo visto Quanti sono Esattamente Il bilancio Riassume La fotografia Dello stato del gruppo Del gruppo Cavite Cioè Una realtà Molto solida Sia da un punto di vista Aziendale Ma anche dal punto di vista Finanziario A conferma Di un management Che è sicuramente Di primissimo livello Poi diciamo che Cavite Ha una peculiarità In quanto È l'espressione Proprio del territorio In quanto è un gruppo Formato da dieci cantine Che insistono Nelle diverse vallate Del Trentino Direttore Zanoni A proposito di questo Stato di salute Buono Dicevo Ma soprattutto Un percorso Che è Anno dopo anno In crescita Sì Noi abbiamo Sempre privilegiato Una crescita costante Io uso sempre Dire che il fatturato È un elemento Molto importante Ma non è Unico Per valutare Come dire I risultati E le performance Di un'azienda Noi negli ultimi anni Abbiamo avuto Una crescita costante Attorno al 3,5 3,5% O medio anno A dimostrazione Che un percorso Iniziato Paga Non a strappi Ma paga Nella continuità La nostra missione Unitamente Alle cantine Di primo livello È garantire Ai nostri soci Viticoltori Un reddito Che dia soddisfazione Allo loro lavoro E che sia anche Costante e sostenibile E questo è Come dire Il nostro Primo obiettivo Obiettivo Che è stato perseguito Con Tutta una serie Di scelte strategiche Che stanno dando Buoni frutti Una di queste Scelte strategiche È puntare Sulla spumantistica Il Trentino È un territorio Particolarmente evocato La produzione Di Chardonnay E Pinot Nero Seppur in misura minore Che sono Il cuore Della produzione Spumantistica Trovano nel Trentino Grazie all'escursione Termica Grazie alle montagne L'habita Mi viene da dire Naturale E il mercato Oltretutto Sta premiando La spumantistica In generale E quindi L'aver puntato Non solo Su questo Che su questo Ci sta dando Buoni frutti Siamo qua Nella cantina Nello spumante Altemasi E quindi È il luogo Se vogliamo Più coerente Oltre che Più natalizio Ma se solo Dalla piccola Cavite è una Delle locomotive Insomma Delle prime locomotive Del comparto Vitivinicolo Ovviamente Della nostra provincia Ti chiedo Una tua valutazione Però È chiaro Che con te Come responsabile A livello provinciale Anche rispetto Alla situazione Di oggi Di questo comparto La crescita Che ha avuto Il comparto Vitivinicolo Nel corso Di questi anni Mi permetterei Richiamare Un'ulteriore scheda Alla nostra regia Che proprio Sintetizza Quello che è Il comparto Vitivinicolo Nel nostro Trentino La fisionomia Eccola qui Ettari coltivati A vigneto Sono 10.043 La produzione Di uva In questo 2015 È pari A 1.217.066 Quintali Il doc Rivendicate Nel 2014 Ammontavano 580.384 Ettoliti Aziende agricole Da uva Con uva Da vino Sono 7.965 Cantine sociali E altre Associazioni cooperative Sono 16 Il peso Della vitivinicoltura Sul comparto Agricolo Considerata La produzione Lorda Vendibile È pari Il 22% Anche questi No Se sono Dalla piccola Sono dati Che già Fotografano Un comparto Di grande Rilevanza E lascio te Beh E non possiamo Che sottolineare Anche con grande Soddisfazione Anche perché Probabilmente Proprio il mondo Vitivinicolo Rappresenta in Trentino Forse la grande Sapienza e capacità Del singolo E della cooperazione Al tempo stesso Nel senso che Non possiamo negare Che esiste Un Trentino Che si colloca Su due posizioni Diverse Non sono livelli Non sono velocità Sono posizioni Diverse Ci sono questi Grandi gruppi Che danno Serenità Stabilità Reddito E poi ci sono I piccoli produttori Che danno Soddisfazione E Promozione Del Del singolo E sono due cose Completamente diverse Che percorrono Due canali diversi Due clientele Diverse Due collocazioni Assolutamente diverse Entrambe però Hanno Lo stesso Scopo Quello di raccontare Il territorio Sempre più il vino Infatti Diventa Narrazione Ha perso La sua Funzione Fisiologica Diciamo così Anche di Bibita Di alternativa Molto riduttivo Ma se lo consideriamo Negli anni in cui Non c'era ancora Tutta la produzione Industriale Di fatto L'alternativa All'acqua Era effettivamente Quello E Viene Invece Molto più Utilizzato Per meditare Per raccontare Quindi Nella Promozione È un ottimo Del territorio Un ottimo Veicolo Di racconto Già che Proprio Nello Storytelling Il racconto Della storia Secondo I dettami di Questo inglesismo Che in realtà Appartiene anche A un disciplinare Che abbiamo redatto Insieme ai nostri Operatori Del settore Turistico È uno Dei Momenti Di Perno Di cardine Diciamo Della nostra Forma di Promozione È il modo Per agganciare L'ospite È il modo Per stare Insieme E cosa c'è Di più bello Insomma Di Avvinare Un bicchiere Per raccontarsi Da cosa è partito Quello che stiamo Assaggiando Dando poi La soddisfazione Al nostro Ospite Di raccontare Di spiegare Perché c'è quel vino E sempre di più Per fortuna C'è una sensibilità Che ai noi In passato Apparteneva Prevalentemente All'Alto Adige E che adesso Invece Pian pianino Sta cominciando Ad appartenere Profondamente Anche a noi Sempre più cantine Insomma Rappresentate Da prodotto Locale Meno nazionale Meno estero Giustamente Lo devi Avere Nella tua Carta dei vini Ma indubbiamente Con grande Attenzione al territorio E la più grande Osservazione Insomma Che può fare Un assessore Al turismo E all'agricoltura E accorgersi di questo E capire quanto I nostri operatori Del settore turistico Diano in vero Valore A questa condizione Quello che diceva L'assessore È da una parte La crescita Fondamentalmente Di quello che è stato L'investimento Sulla qualificazione Devo dire Della coltivazione Anche Della vite E di conseguenza Anche direi Che ne ha preso Vantaggio Il nostro territorio Come lui Poc'anzi Michele Ricordava Insomma Dal punto di vista Anche dell'apprezzamento Dell'ospite Ma credo che è lo sforzo Che avete portato avanti Anche voi Sostanzialmente Come cantina Questo di Tenere conto Oggi Di che cosa vuol dire Presentare Anche il modo Diciamo esterno Estetico Di dove si colloca la vite Ma anche di qual è L'impegno Sulla qualità Della coltivazione Della stessa Sì Direi che I due temi Vanno Sostanzialmente Di pari passo Indubbiamente Negli ultimi Vent'anni Sono stati fatti Dei passi Da gigante Sia nella tecnologia Di cantina Ma anche Nel vigneto Questo al fine Ovviamente Di arrivare Al consumatore Al nostro Potenziale Consumatore Con un prodotto Che sia effettivamente All'altezza E ovviamente Il territorio In questa logica Ne ha tratto Giovamento Perché la specializzazione Della produzione Al fine di Arrivare A una qualità Migliore Una qualità Superiore Ha comportato Diciamo anche Il modellamento Il modellare Proprio Dei vigneti E anche Da un punto di vista Estetico Il territorio Si presenta Oggi Molto Molto Curato Molto gradevole Anche da un punto di vista Proprio Dell'armonia Che possiamo trovare Nelle realtà Rurali Dove Ci sono Ampie zone Diciamo così Coltivate È un aspetto Secondo me Molto importante Perché Nella logica Di intersecarsi Sempre di più Fra Turismo E In questo caso Viticoltura Ma possiamo Parlare Tranquillamente Di agricoltura A senso Proprio A 360 gradi Sia L'aspetto Frutticolo Sia L'aspetto Zootecnico Stanno contribuendo In maniera Determinante Al mantenimento Del territorio E questo È uno Degli aspetti Fondamentali Dell'attenuta Economica Proprio Del comparto Agricolo Trentino Ricordiamoci Che noi Non abbiamo Produzioni Diciamo così Estensive Ma il Trentino È proprio Focalizzato E specializzato Su Produzioni Non dico Proprio Di nicchia Ma ci Andiamo Molto Molto Vicini Un aspetto Anche In questo Senso Toccato Dall'assessore Giustamente È che Indipendentemente Dalla forma D'impresa Del vignaiolo Della cooperativa Comunque La filosofia Che ci accomuna È proprio Quella Di arrivare A Produrre In maniera Sempre più Specializzata E a valorizzare Le produzioni Autotone Locali Ovviamente Le imprese Come Cavit Hanno appunto Nella loro gamma Anche prodotti Di più ampia Diciamo così Provenienza Però Stiamo facendo Un grande lavoro Proprio per Focalizzarci Sulle produzioni Trentine Su questo rapporto Col territorio Il valore Che ha il territorio Per quanto riguarda Anche la nostra Proposta turistica Poi ci ritorneremo Assessore Dalla Piccola Perché credo Che è un aspetto Che giustamente Tu hai sottolineato Ma lo ricordava Anche il presidente Luterotti Però volevo Completare Questa riflessione Questo sguardo Che gettiamo Sul comparto Vitivinicolo Che l'abbiamo visto Nell'importanza Nei numeri Che ha con il direttore generale Zanoni Per dire che veramente In questi ultimi vent'anni Bisogna riconoscere Che qui c'è stato Un cambiamento fortissimo Che è intervenuto E che non è finito Perché bisogna seguire Evidentemente L'attenzione Le sensibilità Proprio del consumatore A proposito di cui Dicevo Ci sono stati cambiamenti Che riguardano La qualità Che è stata premiata E viene premiata Anche dal mercato Dall'altro Un mercato Che è diventato mondiale Ma poi Appunto dicevo Non dimentichiamo Che c'è anche Un consumatore Che è cambiato Stile di vita Il modo Di approcciarsi Anche a questo prodotto Assolutamente sì I cambiamenti Sono stati E sono Importanti E rapidi E vedono Al centro Il consumatore Non scordiamoci Che alla fine Il prodotto Deve essere consumato Il consumatore Negli ultimi anni Ha acuito Certe sensibilità E ha a disposizione Sempre più strumenti Di informazione Da Si vede Tutti i social network Internet E quant'altro E il consumatore Vuole sempre più Conoscere Capire Avere informazioni E trasparenza E il territorio D'origine Di provenienza Del prodotto È fondamentale Il Trentino Come territorio È un importante ambasciatore Sia per qualificare Il suo prodotto Sia per far conoscere I prodotti Del territorio E questo è Sempre più Quello che il consumatore Cerca Il consumatore Cerca Storia Cerca 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 Tutti gli elementi Che fanno sì Che il prodotto Oltre al suo valore Intrinseco Ha tutta una serie Di valori Che chiamiamoli Materiali Che sono quelli Che spesso Ne fanno la differenza Rispetto ad altri Io su questo Ritornerei ancora Un momento Se sono dalla piccola Perché Bisogna riconoscere Tu hai da una parte Una fortuna Ma bisogna dare atto Anche che hai messo In fortuna E quella di combinare La competenza Di responsabilità Politica Del turismo Con l'agricoltura E dall'altra parte Bisogna riconoscere Che hai messo in campo Sempre di più Strumenti Per fare Alleanza E sinergia Se non ricordo male Anche alla recente Conferenza provinciale Del turismo Che hai organizzato Nel piano strategico Si fa riferimento Anche a ciò Ma proprio a dimostrazione Ed è qui che volevo Ulteriormente Che ti soffermassi Di questo incontro positivo Fra turismo E agricoltura Cioè È un'opportunità Mi pare che lo diceva Poc'anzi In una battuta In un passaggio Lo stesso direttore Zanoni È un'opportunità Per il turismo Perché lo va A integrare La proposta turistica E dall'altra parte Però è un'opportunità Anche per la nostra Produzione agricola Teniamo conto Che questo Trentino Mi perdimenti Che lo cita io Il dato Che più volte Hai avuto modo Di ricordare Nelle occasioni Di incontro Abbiamo 30 milioni Di presenze Nella nostra provincia E aggiungo Perché voglio Che su questo Tu possa dire una parola Nell'ultima estate Rispetto a un bilancio Rispetto a un bilancio importante Che tu Con i tuoi collaboratori Di Trentino Marti Hai presentato Parlo dell'estate C'è stata Il tempo L'ha aiutato Per l'amor di Dio Ma una frequentazione Generale Del nostro territorio E qui si ritorna Alla curiosità Tu dicevi La descrizione Mi pare Noi racconto La curiosità Che i turisti Hanno avuto Nei confronti Evidentemente Di quella Che è la produzione Anche Ma Sempre di più Il racconto Del territorio Entra a far parte A pieno titolo Del meccanismo Di Attrazione Del turista Dell'ospite Tanto più Siamo Accattivanti Interessanti Quanto più Sappiamo essere Diversi Dalle persone Che ci circondano E soprattutto Dobbiamo cercare Di trasmettere Un valore Aggiunto A quello che noi facciamo Nel senso che A questo punto L'ospite smaliziato O comprende Che ciò che investe Venendo in Trentino Ha un valore diverso Ed estrinseco Rispetto a quello Che pensa di Comperare O noi non siamo In grado Di risultare Attrattivi Voglio dire questo Bei luoghi Belle stanze Bei Territori Sono presenti Un po' In tutto il mondo Nel momento in cui Una persona Decide per la propria Vacanza in Montagna Lo fa Spesso Osservando Delle icone Delle immagini Rispetto alle quali È difficile Trasmettere Una differenza L'impegno Che deve avere Ciascuno di noi Ovviamente È quello di collegare A questa rappresentazione Anche il territorio stesso E il territorio La fa attraverso I suoi prodotti Allora Del prodotto Ovviamente Più che un'immagine Su internet È molto importante Inviarne un ambasciatore Che è un assaggio Magari Altrove E il vino E il vino Ha anche questa fortuna È un ambasciatore Facilmente trasportabile Lo carichi E lo mandi Oltreoceano Ha dei tempi Di durabilità Assolutamente compatibili Con la sua qualità Va lontano Diventa qualcosa Di conosciuto Di compatibile Per cui poi Dicevo curiosità C'è una sensibilità Della gente Quindi anche l'ospite Coglie l'occasione Della vacanza Per andare a vedere Questo prodotto Dove viene fatto Vitivinicolo Frutticolo Latteiro Caseario Non importa Perché c'è un'attenzione A questo Salubrità Il tipo Di genuinità Di quel prodotto Quindi è un investimento Io penso Ma è proprio quello Che abbiamo fatto E ci ritorno volentieri Perché siamo stati Anche criticati Per il layout Di Espo Devo dire Specificatamente Da una testata Giornalistica Che ci voleva Vedere Meno Così Colorati Dei nostri Cugini Dell'Alto Adige Che hanno Effettivamente Avuto un bellissimo Stand Ma a noi Interessava Raccontare Il territorio A noi Interessava Lasciare Nel nostro Ospite Di Expo Un ricordo Sensoriale Di ciò che può trovare Nel nostro territorio Dal punto di vista Eno Gastronomico Ti faccio assaggiare Un mio prodotto Ti racconto Un pochino Per quello che posso Della mia terra Così tu ti ricorderai Di quello che di buono Hai potuto Ricordare Di quell'esperienza Sensoriale Lì in Expo E quando sceglierai La tua vacanza Troverai quelle icone Troverai quel messaggio E ricorderai ciò che avevi provato In quell'occasione E in questo senso Abbiamo distribuito Oltre 600.000 assaggi Sono stati firmati Dei contratti Ci sono stati Un sacco di contatti Da parte delle aziende Che sono andate E quindi a noi Al di là del gusto estetico Che poteva incontrare Il favore Di qualcuno o meno Quello che ci interessava Era il risultato pratico I numeri Questi noi cerchiamo Di farli Ed ecco perché Anche Caviti In questo caso È un'ottima realtà I numeri li fa E quindi ovviamente Se noi carichiamo Su questo vagoncino Un pezzettino Di promozione Certo Beh sulla quantità Non possiamo che beneficiare Ti posso chiedere Michele a proposito Di questo Abbiamo detto Di quanto sia importante La dimensione turistica No? Per valorizzare Anche queste nostre Peculiarità Della terra Cosa ti pare Che si sta Migliorando Il rapporto Voglio dire Fra produzione Parlo in casa nostra In Trentino No? Sì E tavola Ristorazione L'hotelleria Insomma C'è una Questa filiera Insomma Cammina Per avvicinarsi Sempre di più? Ma non c'è ombra di dubbio La sensibilità È Pressoché Totale Universalmente diffusa Diverso è il ragionamento Dove C'è un Settore Della recettività Che magari Fa dei percorsi diversi Dal punto di vista Dell'offerta Dal punto di vista Economico Tuttavia Che ci sia valore In quello che tu offri Solo se Questo Portato È collegato A produzione Locale È un senso Unanimemente Diffuso E il certificato La cifra Insomma Che descrive Questo Stato di cose È Il numero Di manifestazioni A tema Eno Gastronomico Agroalimentare Se vogliamo Guardare il commercio O L'artigianato E l'industria Perché no Quella piccola Insomma Nostra Sono indubbiamente In fortissima Ascesa Al punto che Sempre più Come Trentino Marketing Insomma E come attività Di coordinamento A livello provinciale Dobbiamo dedicarci Davvero Al Indicizzare Innanzitutto Le manifestazioni Che ci sono Cercando poi Di coordinarle All'interno Ovviamente Di una promozione Di tavoli E di un'organizzazione Territoriale Che permetta A un ospite Magari di ragionare Su pacchetti O comunque Di capire Che di fatto Non sono manifestazioni Estemporanee Come avvengono Ma che fanno Veramente parte Di un territorio Questo mi pare Che è un aspetto No Dottor Zanoni Che seguite Anche voi Come Cavit Questo proprio Di collegarsi Abbinarsi A quello che è Un po' La vivacità Poi Della proposta Ospitalità Che viene Che sia Culturale No Manifestazioni Sportive Anche Eccetera Che consentono Comunque Di fare Questo raccordo Il nostro legame La nostra presenza Col territorio È indubbiamente Fondamentale E noi siamo Presenti In vari modi Con sponsorizzazioni Sponsorizzazioni Di principali Attività O squadre sportive Nel territorio Che peraltro Stanno vivendo Un buon momento Siamo presenti Con sponsorizzazioni Nell'ambito Culturale Ricordo Il Marte Ad esempio Siamo presenti In molti Avvenimenti Eventi Che durante E non solo Durante la stagione Turistica Danno la possibilità Al turista O comunque Al cittadino Di entrare In contatto Con l'azienda Con i prodotti Con i suoi marchi E con il suo forte radicamento Sul territorio Sì è un circuito virtuoso Che vediamo Vediamo spesso E che credo che qui in Trantino Cominci a avere solide basi Insomma Ed è una reciprocità Dal punto di vista Della conoscenza Anche E della ricaduta Allora Ritorniamo un momento Al comparto Percorriamo Rapidamente Questa Illustrazione E fisserei Abbiamo parlato molto Che nel cambiamento C'è subentrato Il confronto Con il mondo Insomma L'export Allora io farei Una prima flash Sul export vino E poi veniamo Ovviamente Sulla spumantistica Il mercato italiano Per quanto riguarda L'export vino Ci dice Che anche qui C'è una Costante Graduale Crescita Ma veniamo In casa nostra E vorrei Vedere se la regia Mi può mettere In onda Una prossima Slide Eccola qua Che ci dice In questi numeri Il totale Dell'export vino Trentino Per quanto riguarda 2014 362 milioni Di euro Lì Non vi soffermo Dico ai telespettatori Più di tanto Vedete che ci sono Gli Stati Uniti Con una prevalenza Che va oltre Il 41% Poi c'è la Germania Il Regno Unito Il Canada Di Paesi Bassi Altri Paesi Giappone Austria E ritorniamo Qui nel salotto Per dire Che ovviamente Si è cresciuti Anche da questo Punto di vista E volevo sentire In particolare Subito Il Dottor Zanoni A questo proposito Cosa ci può dire L'export Per Covid Devo dire Nel DNA È da sempre Come abbiamo visto Nella scheda L'80% Del nostro fatturato Proviene dall'export I nostri numeri Sono abbastanza In linea Con quelli Che sono Della scheda Del totale Trentino Avendo noi Un peso Rilevante All'interno Gli Stati Uniti Sono E rimangono Anche sicuramente Per i prossimi anni Il primo mercato Di sbocco Per il vino italiano Così come Altri mercati Sono Germania Inghilterra Canada L'esportare È vitale Oserei dire Per aziende Della dimensione Come la nostra Poi per realtà Di dimensione Diversa Il mercato domestico Seppur Non in crescita Rimane comunque Un mercato Di potenziale E di grande interesse I consumi Stanno crescendo A livello mondiale Del vino E questo è un aspetto Positivo Ma stanno crescendo Sicuramente di più In paesi Con minor Tradizione O cultura Del consumo Del mondo del vino Gli Stati Uniti Ormai sono da anni In crescita Ma hanno ancora Ampi spazi A mio avviso Di crescita Così come Il mondo asiatico Così come Il nord Europa Così come Il Canada Quindi sicuramente Per aziende Di ripeto Di una certa dimensione E di una certa strutturazione L'export diventa fondamentale E cruciale Per approcciarlo Oltre a strutture Come dire Manageriali Servono anche Approcci di mercato Che vadano A Pensare a come Meglio approcciare Quel mercato Non tutti i paesi Sono approcciabili Allo stesso modo È banale Ma L'export Non è qualcosa Di unico Indistinto Ma è un approccio Come dire A geometria variabile La Germania È un mercato Molto diverso Dagli Stati Uniti Può sembrare banale Ma a volte Si tende A come dire A omogeneizzare L'export In un unico Approccio Quando invece Va molto Diversificato Ciò non toglie Che c'è stata Una qualificazione Una capacità Di tenuta Anche rispetto A incontrare Il mercato Di tutte quelle cantine Di piccola Media dimensione Che fanno magari Dei prodotti Più di nicchia Insomma Assolutamente Un settore Dove c'è Molta difficoltà Dove non ci Nascondiamo Insomma Dietro alle Esigenze Che loro hanno Assolutamente Peculiari La certificazione Di tutto questo Sta nel fatto Che anche i vignaioli A livello provinciale Hanno deciso Di seguire Un percorso Indipendente Esattamente Come i loro Cugini A livello Nazionale Ma io Non lo trovo Completamente Disdicevole Perché L'unità Fa bene Quando è possibile Quando c'è una strada Che di fatto Riesca In qualche maniera A Giovare A tutti Qui Davvero Ci troviamo A Dover ragionare Con posizioni Completamente Diverse Quindi è possibile Che si riesca a trovare Anche un equilibrio Diverso Una geometria Completamente Variabile E non accetto Assolutamente Il rapporto Con l'alto Adige Dove Fondamentalmente Sono a meno di un quinto Della nostra Produzione Sia per ettari Sia per quantitativo Dove di fatto Effettivamente È presente Un'enologia Che è solo Di quel tipo I grandi gruppi Mancano completamente E quindi Di fatto È una realtà Economica Che è completamente Diversa Quindi Se mai Quel tipo di modello Può essere interessante Per noi Per una certa porzione Di enologia trentina Ma solo per quella Di un certo tipo Noi facciamo altri percorsi Poi di fatto Lo abbiamo dimostrato Ampiamente Vediamo qui Che quantità Può benissimo Andare di pari passo Con qualità Si tratta semplicemente Di evolvere Di saper fare Di poter concepire Tra l'altro Modalità e approcci diversi Alla vinificazione Che poi Però ti danno anche Degli standard produttivi E soprattutto Anche Una garanzia E una stabilità Che Ovviamente Sono Molto molto importanti Di certo Ciascun produttore Deve scegliere Ciò che più si attagli Al proprio stato d'anima Al proprio carattere Alla propria indole Insomma Non siamo Tutti uguali Cioè di certo La persona che preferisce In qualche maniera Partecipando Per alcuni aspetti Dele gare C'è chi Invece apprezza Vivere in prima persona Invece questa esperienza Del mercato Della produzione del vino Insomma Del racconto Di una propria vita Che sono Esperienze Uniche Ed irripetibili Che aspettano al singolo E soprattutto Avere sempre forte Questo riferimento Al marchio Trentino Per noi è fondamentale Siamo ancora Troppo poco Orgogliosi Del nostro Marchio Trentino Di fatto Va Promosso In ogni forma E ordine Al punto che La giunta Ci crede E tanto Da aver Cercato Un collaboratore Che Si incarichi Proprio di questo Della promozione Del marchio All'estero Sul fronte interno Tra l'altro È uno dei messaggi Fondamentali Proprio emersi Dal piano Strategico Triennale Del turismo E anche Dalla conferenza Del turismo Ma vale Senza ombra Di dubbio Anche per il mercato Agroalimentare Poiché Poiché come abbiamo Abbiamo L'occasione Di caricare Questo marchio Su degli ambasciatori Del territorio Che Chi migliore sia Se non Nostri prodotti Mi fermo Mi fermo ancora qui Perché faccio un passo Abbiamo davanti Fra l'altro Questo bellissimo Contenitore Di spumante Di Trentodoc Cavit In quel cesto Mi pare che ci sono Riserva Graal Se non va Altemasi Riserva Graal Altemasi Millesimato Altemasi Rosè Altemasi Brut Che poi Sono le Produzioni Di Cavit Ma Dicevo Crescita costante Presidente Zanoni Anche in casa nostra Per quanto riguarda La spumantistica Trentodoc 43 Dico bene Le case associate All'istituto Trentodoc I dati del triennio 2012-2014 Parlano di un più 6% Medio anno Se dico bene Oggi siamo a 7 milioni Di bottiglie vendute Per un fattorato All'incirca di 70 milioni Di euro Le esportazioni Corrispondono Al 20% Del venduto 10% Sull'Europa 10% Fra Asia Oceania Stati Uniti E altri Paesi Sotto questo profilo Mi pare che si stanno facendo Dei passi davanti Sicuramente sì In primis I dati che lei ha appena citato Sono frutto di un osservatorio Che finalmente Un osservatorio Certificato Che come istituto Trentodoc Abbiamo strutturato E dove tutti gli aderenti Quindi tutti i produttori Forniscono le informazioni Che vengono consolidate E ci permettono Di avere un termometro Che misura Lo stato di salute Del comparto E d'ora in avanti Avremo costantemente Il monitoraggio Il termometro Ci ha dato Un'indicazione Assolutamente positiva Il comparto Dimostra crescita Negli ultimi Tre anni Una crescita Non abbiamo ancora I dati Li avremo a febbraio Per quanto attiene Quest'anno Il 2015 Ma che il sentiment Dei vari produttori È positivo Una crescita Che di nuovo Evidenziando Come il modello Delle aziende Può essere Assolutamente Ritagliato Sulla dimensione Come diceva bene L'assessore prima All'interno del comparto Trentodog Dei 43 produttori Esistono realtà Tra di loro Molto diverse Accumunate Dal prodotto E dalla produzione Con modelli Molto diversi Si va dalla grande Maison Che sappiamo essere Il grande Come dire Produttore di Trentodog A realtà cooperative Che di nuovo Come si diceva prima Dimostrano Di poter produrre Eccellenza E quindi far convivere Nel modello Che vede anche Produzioni Di numeri importanti Ma anche Produzioni Di grande Livello qualitativo A piccoli O piccolissimi Produttori Che hanno visto Nella spumantistica La possibilità Di trovare Un loro spazio Sul mercato E dove Come dire Già il territorio locale Il territorio trentino È un bacino Di consumo importante E con ampi spazi Di Ampiamento distributivo Ci sono Indicatori Assolutamente positivi Ci sono Ci sono per più motivi Uno La spumantistica In genere In senso l'atto Vede crescere i consumi A livello mondiale Negli ultimi dieci anni Sono cresciuti Del 40% I consumi Di spumantisti L'Italia È sempre di più vista Anche a livello internazionale Come un mercato Che oltre Eccellenti vini fermi Può E sa produrre Anche eccellenti Spumanti Sia a metodo Schermann Che ha metodo classico Come Trentino Come Trentodoc Abbiamo Una Come dire Una posizione È un posizionamento Assolutamente unico Che viene Sintetizzato Con bollicine di montagna Dove la montagna È quello che fa la differenza Il territorio E l'esperienza Quindi io vedo Sicuramente La possibilità Per il comparto Di crescere In prossimi anni Sia per i piccoli produttori Che vedono Nel territorio nazionale Se vogliamo Il loro export Sia per i grandi gruppi Che vedono Sia nel territorio nazionale Abbiamo visto Che comunque L'80% Delle vendite Sono fatte in Italia Sia nel cominciare A affacciarsi In modo un po' più strutturato Sul mercato internazionale Presidente Luteroti L'esperienza Neopresidente Ma da presidente Della cantina Dobrino Faceva parte Di questa famiglia Nella grande famiglia Di Cavit Mi faccio un riferimento Perché allora Fece discutere Allora Cos'è? Tre anni che avete acquisito La casa spumantistica Kessler In Germania? Sì Tre anni Esperienza buona? Esperienza direi Assolutamente buona E anche da un punto di vista Proprio della strategia Del gruppo Cavit Va nella direzione Proprio di Accompagnare E seguire con attenzione Le aree di mercato Che come si diceva prima Vanno approcciate In maniera diversa Seconda del tipo di cliente Non dimentichiamoci E io vorrei Mettere una sottolineatura Che il Trentino Se parliamo di metodo classico È la terra di vocazione Per eccellenza E quindi non a caso Questo prodotto Riesce a esprimere Delle qualità Diciamo Di assoluto rilievo In qualche occasione Senza fare nomi Sono stati comparati Con prodotti Molto blasonati A livello europeo E ne sono usciti Assolutamente In maniera Direi Più che dignitosa Se non Senza voler proprio Esagerare Quasi quasi migliori Ma questo Non è dovuto Tanto a un marketing Di supporto Ma proprio Come si diceva All'inizio di questa chiacchierata Ha tutto un processo Tutta una storia Che parte dal vigneto E arriva alla bottiglia Io sono molto legato A questo concetto Personalmente Che poi a Toblino Abbiamo un po' Così Portato avanti In maniera Per quanto riguarda La sfumatistica In maniera Forse un pochino Più accentuata Ma riguarda Tutto il gruppo Cavit Laddove ci sono Delle zone vocate Io credo Ci siano Delle grandi opportunità E è un comparto Che assolutamente È in crescita E il consorzio Cavit Ha una grande Come dire Un grande responsabilità Perché con gli altri brand Provinciali Possiamo trasformare Questo prodotto Nel vero ambasciatore Del Trentino Nel mondo E credo Che la strada Imboccata Già oggi Sta dando i risultati Sperati In questa direzione Dobbiamo continuamente Lavorare Perché Ha una dinamica Il metodo classico Che non è Paragonabile A un vino fermo Cioè ci sono Dei tempi Di non solo Lavorazione Ma anche Di proprio Stagionatura Che sono Un po' più lunghi E quindi ovviamente Le strategie Messe in campo Bisognano di qualche anno In più Per entrare a regime Ovviamente Oggi Cominciamo a cogliere I primi frutti Di un lavoro Che è iniziato Qualche anno Addietro E che stanno A testimoniare Che la strada Intrapresa Senz'altro È giusta I numeri ovviamente Stanno diventando Importanti Ma Dal mio punto di vista Credo che abbiamo Ancora ampi margini Non solo In termini commerciali Ma anche Di potenziale produttivo Quindi Possiamo accompagnare Diciamo così Questa opportunità Di mercato Anche proprio Partendo Dal potenziale produttivo Perché viceversa Non saremo credibili E noi dobbiamo essere Sul mercato credibili Perché il consumatore Chiede Credibilità Quando preferisce Il prodotto Deve avere Diciamo così Dal mio punto di vista Una garanzia Che parte Proprio Da basi solide Però su questo fronte Io credo che L'apprezzamento Sta veramente crescendo Lo si sente Nel consumatore Volevo sentire L'assessore dalla piccola Ti pare? Ma certo che sì Poi in realtà A noi Piacciono molto Le sensazioni Ma ancor più I numeri E quindi Insomma Le statistiche Le osserviamo E anche se facciamo Politica Beh insomma Facciamo anche bilanci E quindi Insomma I numeri di quelle schede Bene avete fatto A diffonderli Anche attraverso I media Perché In qualche maniera Ci fanno capire Che il trend È positivo È quello che cerchiamo Insomma Ci sono dei settori Che vanno davvero bene Ed è un po' Nell'immaginario collettivo Di noi trentini Insomma Comunque quello Non dico Del pessimismo Del lamentarsi Ma di certo Insomma Spesso di vedere Più volentieri Il bicchiere mezzo vuoto Rispetto a quello Mezzo pieno E oggi Abbiamo rappresentato Alcuni aspetti Di un bicchiere Mezzo pieno Che è ovviamente Un bicchiere di bollicine Bene Conclusione Ringrazio l'assessore Dalla piccola Presidente Luterotti Il direttore Zanoni Nonché presidente Dell'istituto Trento Doc E a proposito Di Trento Doc Pregherei All'assessore Di alzare Il calice Che Cavit Con Altemasi Ci ha messo qui Sul tavolo Per rivolgere Assessore Un augurio Ai nostri telespettatori Che è per queste festività E soprattutto Per un 2016 All'insegna Della prosperità Ovviamente Certo di Cavit Daltemasi Di Trento Doc Ma soprattutto Per tutti i Trentini Grazie Auguri ai nostri telespettatori Salute Anche da parte mia E ci vediamo Nel prossimo anno Ci ci A cuori Questo programma È realizzato In collaborazione Con Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. 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 La felicità è reale solo quando è condivisa insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.